Buonasera e ben ritrovati al muro del pianto. Pelle liscia grazie a cadaveri di bambini? In pubblico non si sente mai o quasi mai parlare dell'affare con l'aborto. Chi è a conoscenza del fatto che i collageni nei cosmetici provengono da bambini abortiti? In Russia addirittura vengono offerti 200 dollari a giovani donne nullatenenti per rimanere gravidi e in seguito abortire e mettere a disposizione il feto ucciso all'industria cosmetica. Un paio di anni fa furono ritrovati in un capaccio sugli Urali dei bidoni con 248 feti umani. Pare che esista un'intera industria che rifornisce materiale biologico ricavato dagli aborti non solo per la produzione di cosmetici ma anche per uso farmaceutico. Così per esempio è diventato impensabile la produzione di tanti vaccini senza l'utilizzazione di embrioni in stadio iniziale o di feti. Con dichiarazioni come coltivato su cellule polmonari diploide umane vengono celate le cellule dei bambini abortiti per la produzione di queste sostanze. Chi partecipa a fermare questo affare omicida delucidando e rinunciando conseguentemente a tali prodotti? Con questa domanda vi lasciamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Clagemava. Non mancate!